Il premio Carlo Magno conferito al Papa ha fatto riflettere la comunità europea sui valori della nuova Europa, la cui riscoperta e rifondazione sono state sottolineate proprio dal pontefice. Tra le autorità e i diplomatici presenti anche l'ambasciatore d'Ungheria presso la Santa Sede Edward Asburg-Lotringen. Io sono stato lì in aula e come sempre sono stato molto toccato dalle parole del Santo Padre. Lui è una voce morale dell'Europa, ci ricorda che dobbiamo essere solidari, che dobbiamo aiutarci e ci ha chiesto Europa umanista dove sei? Allora è un po' una chiamata a svegliarsi un po' all'Europa e di ricercare chi siamo insieme. Io vorrei che i Paesi europei si mettono insieme e si chiedono cosa sono questi valori europei dei quali tutto parlano. Tutta questa domanda è nell'aria, nessuno lo concretizza, nessuno dice che cosa sono veramente i valori che ci uniscono. Su questo dobbiamo proprio incontrarci, parlare, ascoltare a tutti, non solo a certi e poi troveremo un cammino insieme e poi saremo anche capaci ad affrontare delle crisi come l'attuale dei migranti. Abbiamo incontrato l'ambasciatore all'Accademia d'Ungheria in occasione del 1700esimo anniversario della nascita di San Martino di Tours, il soldato francese nato in Ungheria che stracciò il suo mantello per rivestire un mendicante. La figura di San Martino è stata ricordata in una tavola rotonda che ha messo in luce l'attualità del santo nell'Europa odierna, un continente che i particolarismi nazionali e tornaconti politici basati sull'immediatezza dei risultati rischiano di rendere sordo al grido di aiuto di chi bussa alle sue porte ma anche di chi vive al suo interno. Si si rende conto adesso che ci sono percezioni e modelli diversi come vedere delle posizioni politiche in Europa ma è come in una famiglia, in una famiglia ci sono posizioni diverse, caratteri diversi. Io ho sei bambini e quando siamo attorno al tavolo io mi rendo conto quante visioni diverse si incontrano. È un po' così nell'Europa e io penso che l'Europa ha ancora un certo cammino a fare finché tutti rispettano le opinioni di tutti e troviamo una via comune ma non c'è alternativa al progetto dell'Europa. Non solo i profili politici però, il discorso di Papa Francesco ha toccato temi anche sociali e culturali, ambiti di cui si interessa il Consiglio d'Europa, l'organizzazione internazionale che raccoglie i paesi europei e che si batte dalla sua fondazione nel 1949 per lo sviluppo dell'identità europea basata su valori condivisi. Con noi Stefano Dominioni, direttore dell'Istituto Europeo per gli itinerari culturali. È un richiamo ai valori fondamentali che ci uniscono, diritto dell'uomo, democrazia, Stato di diritto ma anche al rispetto delle minoranze, integrazione, diversità culturale, dialogo e uno sviluppo economico che sia uno sviluppo economico condiviso. Questi sono i valori che il Consiglio d'Europa da sempre protegge, promuove nel rispetto dello Stato di diritto ma anche di una visione europea, veramente di un continente che sia un continente anche aperto e alla diversità culturale.